Il ponte di via Paganini non c'è più. Abbattuto nel fine settimana, con tempi inferiori al previsto, riaperta in anticipo la circolazione sulla strada del Melaro, arteria fondamentale che convoglia la via Abilità nell'Ovest Vicentino. Al suo posto arriverà un cavalcaferrovia, tale da consentire il passaggio della TAV. I lavori abbiamo visto anche nel ponte di Montecchio, un anno è il termine normale per realizzare un'infrastruttura di questo tipo. La nostra qui sarà anche più lunga, però non più lunga in termini di tempo, perché oltre a sostituire il ponte precedente, facendolo più largo e con una pista ciclabile, quindi con maggiori dimensioni e maggiore comodità, scavalcherà anche a nord la strada regionale e quindi non ci sarà più bisogno di un incrocio a raso, ma entrerà in un braccio della rotatoria cosiddetta Bonometti. La preoccupazione del sindaco che guarda alle cantierizzazioni che comporteranno necessarie deviazioni viabilistiche, la speranza dice che non si strozzi il paese. Cantierizzazione, perché nei progetti spesso non si affronta questo tema, che è quello appunto di come dislocare le macchine, i mezzi, che quindi non si tiene conto che si dovrà anche occupare la viabilità esistente. E questo sarà un problema, sarà un problema che stiamo affrontando anche con la provincia, che è il titolare della strada del Melaro, e con anche la prefettura, con il comitato viabilità, perché appunto si parla di interruzioni abbastanza, come dire, abbastanza importanti, e o di restrizioni di carreggiata e quindi difficoltà nella circolazione fluida di questa arteria, che per noi è vitale. Grazie. Grazie.